Confermo perché era un programma scritto bene e pieno anche di contenuti innovativi. Il problema è che poi naturalmente l'ho riletto con attenzione per verificare che il 90% delle cose che erano scritte in quel programma sono rimaste nel cassetto, sono rimaste completamente inattuate. Questo è un fatto politicamente molto rilevante. Io l'ho già detto e lo ripeto, il sindaco Mastella dovrebbe avere più rispetto nei confronti dei beneventani e fare la cosa più ovvia che si richiede a un sindaco uscente, rapportarsi alla città e dare conto del proprio operato. Chissà se lo farà presentando il programma di fine mandato, ma al di là di questo che è un adempimento di legge, sarebbe invece molto significativo dal punto di vista del comportamento etico rivolgersi alla città e dire in questi cinque anni le cose che ho fatto, i risultati che ho realizzato sono esattamente questi per consentire proprio ai beneventani una valutazione serena, oggettiva sull'operato dell'amministrazione uscente. Mi dispiace molto che questo fino a questo momento non sia verificato e mi auguro, proprio ripeto, per una forma di rispetto dovuta ai beneventani che il sindaco dia conto del proprio operato, di come ha gestito questi cinque anni e di che cosa ha realizzato nel corso del mandato.